Schercherando, oh schercherando Caroline, se tu darai massimo sei, non vi lamentate dopo se poi noi con il tesoretto premiamo chi è stato, diciamo, svantaggiato Io non l'ho mai lamentato Ma mi fate fare delle figure Non siete stati molto cortesi con l'ospite, dobbiamo dire No, lo fate Me l'hanno anche depotenziato stasera per dispetto Il tesoretto è un omaggio a chi ha regalato un'emozione a chi ha stupito, a chi ha portato un contributo importante Per quello che ci ha regalato, per la sua esperienza, la saggezza e anche per la testimonianza che arriva a casa di chi ha superato gli 80 anni e si mette in gioco Io do il tesoretto a Giampiero Mughini e a chi non è Penso che sia stato fatto più un dispetto al pubblico che guarda ballando con le stelle che a me e ad Alberto Quindi a questo punto proprio per dare comunque cuore e pancia a questo tesoretto e anche a questo punto per ripotenziarlo io confermo il tesoretto di Alberto Matano Sale al primo posto Al primo posto c'è Giampiero Mughini facciamoci due domande forse c'è qualcosa che non va Grazie a tutti Grazie a tutti